Su un po' di grinta Su un po' di grinta? Eh ma mi sto rilassando un attimo No dai, è divertente Va bene, va bene È larga? Va bene, allora vado su con un po' di grinta Ma non troppa che l'esperienza ci ha appena insegnato che quando meno te l'aspetti, bam Però se vieni davanti a me mi diverto di più perché almeno poi faccio la telecronaca Se sono da solo mi diverto di meno Attenzione, lo supera Grazie a tutti Penso che io non neanche ho bevuto il latte Eh ma la cacca ha uno stile di vita Pullman Cazzo potevo andare su lì Eh se vai giù forte i posti non li vedi e quando li vedi è tardi Qua? Ma Luna ma dove le metti le moto scusami? Ah no Poi c'è un cancello E quando sei in giro in macchina è più facile perché ti metti lì tra le due portiere E se no la faccio su al tonale? No che ci metti due ore per carità del cielo Che mi lasci fuori i venti minuti ad aspettarti Già siamo in ritardo Ma Luna ma c'è un... E dove vado? Eh vincchia è uno spiazzo gigante Cioè dove Spiegami dove ti vuoi fermare nella tua mente Che almeno guardo anch'io Perché se neanche quello spiazzo gigante Dove bastava fare cinque metri per entrare nella vegetazione Va bene Fammi capire dove ti vuoi fermare Così guardiamo tutti e due la stessa cosa E poi quello lo porteremo indietro Ma adesso è fermato anche il tipo lì Vai lì dietro la montagnetta Chi ti deve vedere Non c'è, non c'è il guadilì Sì 80 minuti dopo Paz, sono andata a fare la pipì nei boschi Nell'erba alta Con la paura dei serpenti Adesso se non cado Potrei arrivare da Eros Oh signor Aiuto Ok stavo cadendo Vuoi farla vivì? Che gioia Maronna che caldo Maronna SANT Maronna Maronna Mi ricordo Mi ricordo da piccola giocavo a un gioco Si chiamava Di Totò Sapore Che cos'è? Era un Era un Un cartone animato Che poi hanno fatto videogioco E Di sto bambino E di pulcinella Vabbè era tutto abbinato a Napoli E c'era E c'era Questa pulcinella Che diceva Maronna mia Maronna mia Che cartone animati guardavi Luna? Io non lo so Quelli che mi davano da guardare Ti davano da guardare pulcinella Che diceva in napoletano Maronna mia Sì Maronna mia Vabbè Cioè niente contro Pulcinella E contro E contro pulcinella Che parla in napoletano Però mi sembra Quanto meno un cartone animato strano Da far vedere un bambino No non è vero Era bello Tutò a sapore Adesso Chiediamo ai fans Quanti hanno visto Tutò a sapore Com'è che si chiamava Totò a sapore? Tutò a sapore Sembra tipo un gioco Dove devi indovinare il sapore Di quello che stai mangiando No era carino Ti dico secondo me L'hai visto solo tu Non è vero Dopo ti faccio vedere su youtube Probabilmente te lo stai anche inventando Non è vero Dopo ti faccio vedere Maronna mia Allora Luna Sono passati tre anni Wow Di più Sono passati più di tre anni Da quando abbiamo registrato il video Che sto editando Ok E in quel video Parlavi di Totò a sapore Sì non è toto È totò a sapore Vabbè Totò a sapore Mamma mia Non so che infanzia Che ha avuto questo Mai visto Poi mi dicevi nel video Quando torniamo Te lo faccio vedere su youtube Ovviamente poi non mi hai mai fatto vedere più niente E io a distanza di più di tre anni Ho detto Nel video ti dicevo Ma secondo me Te lo stai inventando Invece ho cercato su wikipedia Cazzo Esiste veramente C'è un cartone animato Che si chiama Totò a sapore È la magica storia della pizza Ma guarda che io C'era anche il videogioco Io giocavo con il videogioco Ma è semplice Poi ho scoperto Il videogioco sul pc Su cosa? Era sul Su pc credo C'era un videogioco E poi guardavo il cartone animato Comunque Comunque ho scoperto Che c'è il film Su prime video Quindi se voleste andare a vedere Cos'è tutto a sapore Prime video Magari sono curioso anche loro Che come me non l'ha mai sentito Guarda che bello Mi è stato Napoli Magari io ero già troppo grande Quando c'era questa roba Sì perché c'era tipo Pulcina Non so Non so magari anche Sai che i fans Qua Cioè Un po' tutte l'età Quindi magari anche loro Non l'hanno mai sentito Cioè Boh È famosissimo Totò a sapore Scriveteci nei commenti Se ne avete mai sentito parlare Vio vio mai Prima volta nel video È così Eh te lo farò vedere Allora vedremo insieme Stiamo scendendo nel Bresciano Pota Ma Pota è bergamasco Luna Dobbiamo fare un ripasso della geografia Ah Pota, Bergamo e Brescia è lì Però non so cosa dicono i Bresciani In effetti Oh lo sai che Domenica Cioè domani dovrebbe venire su Quel tipo Che ce l'ha raduno Che non sapeva cos'erano i chat Ti ricordi? No Sì sì Io sì Ma chi era? Eh uno del Bresciano Ah no non mi ricordo Ma domani si sveglierà Vedrà Che nevica E non verrà Ah Ma in realtà anche Quali di domani Che sono in dieci Boh Non so dove vanno A fare il giro O verranno in macchina O poi magari domani Ci svegliamo Sole pieno Non è neanche una nuvola Però vedendo le previsioni Che danno la neve Non lo so Così Boh Vediamo Anche se è bene Ma domani non danno così brutto Eh no domani No Lì no Corte Cortenedolo 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 È un tipo di corticosteroide Cortenedolo Portica miseria Che brutto paese Sbadiglio in sincrono Sì Attenzione gente Un Porsche Giallo Ma va È un Alfa Spider Due Alfa Spider Ma va Ah sembrava un Porsche Tre Alfa Spider Sarà il raduno Delle Alfa storiche Eh infatti Bestia Eh beh O dopo una due Ce l'aveva anche mio nonno L'Alfa Spider Ma va Eh sì Rossa Ha detto che beveva più di un Ferrari Ha detto che quando andava bene Faceva i sei con un litro Finchia Ebbè mio nonno Non è che ha sempre avuto la modus È stato giovane anche lui No 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 Fanzo ci fermano Non ci hanno fermato No hanno sentito gli altri No hanno sentito gli altri Eh Michele Noi arrivavamo A 50 all'ora Belli tranquilli Dietro in galleria Si sentivano gli aerei Che volavano E ovviamente A noi ci hanno guardato Ci hanno lasciato passare Gli aerei che arrivavano in galleria Subito fermati Vedete perché bisogna andare in giro piano Perché poi Non ti fermano neanche al posto di blocco Passate passate Che tanto Ma si ci ha visto Arrivavamo Jungle Io non li avevo neanche visti Arrivavo giù a 60 all'ora In quinta Silenzio Si è sentito quello lì Non so che moto era Un aereo che stava decollando E ovviamente subito Luna questa è l'ennesima Dimostrazione Che In realtà andiamo piano E che quelli che commentano il video Dicendo pieni di infrazioni Hanno torto Perché Non ci ferma neanche la polizia Vabbè però Ho capito Andare a 60 all'ora adesso È un po' eccessivo Ma no Ma perché stavo chiacchierando E non è che Anche perché dopo c'è il gavia Cioè abbiamo Tempo dopo per andare piano Posizione tattica comunque Fuori dalla galleria Ma è passata qualche moto Sì E non ci ha segnalato niente No Infami di merda Bene Siamo scesi in valle La discesa Della Prica È finita Adesso siamo a Edolo Che è un paesone Un po' tipo Morbegno E da qui Inizia la salita Del passo del Tonale Che poi va giù in Trentino Verso Di Maro E poi proseguendo Si arriva al Mendola Eccetera Che un giorno faremo Ma quel giorno non è oggi Possiamo iniziare Il passo Mendola Che quando l'avevo fatto Nel 2017 Mi ero divertito Veramente tanto Adesso butta un occhio giù Guarda che figata Si Non mi fermeranno Ma è vero No dai Bravi Bravi Ma così proprio Piantati in mezzo alla strada Occhio Bestia Bene Si può procedere E qua Inizia La salita La salita La strada La strada che porta A gavia E al Tonale A questo punto ti direi Di accendere la GoPro davanti Prova a schiacciare solo il tasto sopra A vedere se inizia a filmare Si La mia si No Ah si Pantaloncini senza guanti Wow Su un po' di grinta Su un po' di grinta Eh ma Mi sto rilassando un attimo No dai È divertente Va bene Va bene È larga? Va bene Allora vado su con un po' di grinta Ma non troppa Che l'esperienza ci ha appena insegnato Che quando meno te lo aspetti Bam Però se vieni davanti a me Mi diverto di più Perché almeno poi Faccio la telecronaca Se sono da solo Mi diverto di meno Attenzione Lo supera Guarda le mucche Siamo arrivati a Gavia Il lago è ancora ghiacciato Non del tutto In parte Peccato non poter filmare Questa giornata Luna Luna Grazie a tutti.